Siamo arrivati alla 46esima vera scheda di esame teorico per il conseguimento della patente di un iscritto al canale. Ringrazio Gabriele per avermene inviata e gli faccio i complimenti per essere stato promosso facendo un solo errore. Prima di iniziare l'esame mi raccomando di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Bastano davvero pochi secondi e per me sarà un grande aiuto per continuare a pubblicare video come quello che state per vedere. Non dimenticate di cliccare anche sulla campanella per non perdere tutti i prossimi video in uscita. Per iscriversi basta cliccare sul link che trovate qui sotto in descrizione oppure sulla scritta che compare adesso fin alto a destra. Dopo essere iscritti concentrazione e iniziamo l'esame. Il segnale raffigurato indica un percorso pedonale e ciclabile. La risposta è falsa. Questo segnale indica esclusivamente un percorso pedonale e non anche ciclabile. Il semaforo in figura non consente di occupare la corsia indicata con la luce rossa a forma di X. La risposta è vera. La corsia che si trova sotto la luce rossa a forma di X è destinata ai veicoli che viaggiano in senso contrario al nostro e di conseguenza non si potrà assolutamente occupare quella corsia. Il limite di velocità sulle autostrade per coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni e di 100 km orari. La risposta è vera. Chi ha conseguito la patente da meno di tre anni e cioè neopatentati deve proprio rispettare il limite di 100 km orari sulle autostrade ed eventualmente di 90 km orari sulle strade extraurbane. Su strada a doppio senso di marcia con tre corsie, come in figura, i veicoli possono usare la corsia centrale per la marcia normale. La risposta è falsa. Su questo tipo di strada le due corsie laterali sono destinate ai due opposti sensi di marcia mentre quella centrale va utilizzata per il sorpasso sempre di entrambi i sensi di marcia. Molto pericoloso ma purtroppo funziona così. Il pannello giallo in figura, posto nella parte posteriore del rimorchio, individua un autotreno o un auto articolato. La risposta è vera. Questo pannello viene applicato nella parte posteriore di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di merci con massa complessiva pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. I complessi di veicoli composti da una motrice, cioè da un veicolo che traina, è un rimorchio o semirimorchio vengono chiamati rispettivamente autotreni e auto articolati, proprio come dice la domanda. La patente di categoria A1 abilita la guida di tutti i motocicli di cilindrata fino a 125 cm3. La risposta è falsa. La patente A1 non abilita la guida di tutti i motocicli di cilindrata fino a 125 cm3, ma quelli che hanno una potenza massima non superiore a 11 kW e un rapporto potenza-peso non superiore a 0,1 kW su kg. Dopo la firma del contratto di assicurazione RCA, responsabilità civile auto, l'impresa assicuratrice deve rilasciare al cliente il certificato di assicurazione. La risposta è vera. Alla firma del contratto l'assicurazione rilascia al proprio cliente il certificato di assicurazione, rilascerà inoltre la polizia assicurativa, il contrassegno e l'attestato annuo dello stato di rischio, documenti quasi tutti, sempre ormai in formato digitale e non più cartaceo. La figura rappresenta un segnale di pericolo. La risposta è vera. Questo segnale di pericolo che si chiama Croce di Sant'Andrea e si trova in prossimità di passaggio a livello senza barriere, con una sola linea ferroviaria. Il segnale raffigurato indica il limite di velocità per tutti i veicoli. La risposta è falsa. Questo segnale non indica i limiti di velocità per tutti i veicoli, ma la fine del limite di velocità. Da dopo il segnale si potrà correre anche ad una velocità superiore ai 50 km orari, ma sempre nel rispetto dei limiti massimi della strada che si sta percorrendo. La striscia trasversale continua in figura indica il punto in cui dobbiamo arrestarci ad un incrocio se non è regolato. Ci arresteremo solo in presenza di una segnalazione di arresto, che potrebbe essere il segnale di stop, il semaforo rosso, le luci rosse lampeggianti di intermittenza, oppure anche un agente preposto al traffico. Il pannello integrativo raffigurato posto sull'autostrada può consigliare di uscire per evitare probabili rallentamenti o code. La risposta è vera. Questo pannello integrativo indica probabili code, ovvero veicoli che procedono molto lentamente. Per evitare di perdere troppo tempo in coda, se ci troviamo in autostrada, può essere opportuno uscire al primo svincolo. Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre procedere a nostra volta con i fari abbaglianti per vedere meglio la strada. La risposta è falsa. Se su strada extraurbana incrociamo un veicolo con i fari a luce abbagliante accesi, facciamogli un lampeggio per fargli capire il problema. Qualora non li dovesse spegnere, distogliamo lo sguardo dei suoi fari per non essere abbagliati, moderiamo la velocità e all'occorrenza accostiamo e fermiamoci. Fuori dei centri abitati, se non è possibile collocare il veicolo fuori della carreggiata, il conducente deve effettuare l'affermato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. La risposta è vera. Fuori dei centri abitati bisogna sempre fermarsi quando possibile con il veicolo fuori dalla carreggiata per non essere di intralcio per gli altri veicoli. Qualora non si potesse fare, bisogna accostare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata per essere il meno di intralcio possibile per gli altri veicoli in transito. I bambini di età inferiore a tre anni non possono viaggiare su autovetture sprovviste degli idoni sistemi di ritenuta. La risposta è vera. Un bambino di età inferiore ai tre anni deve sicuramente viaggiare utilizzando gli appositi sistemi di ritenuta. Durante la guida si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se nella patente figura, per esteso o sotto forma di codice, tale obbligo. La risposta è vera. Chi non ci vede abbastanza bene deve guidare utilizzando obbligatoriamente gli occhiali o le lenti a contatto. Quest'obbligo è indicato sul retro della patente con il codice armonizzato 01. I caravan roulotte sono utilizzabili come alloggio solo con il veicolo fermo. La risposta è vera. Sui caravan o roulotte non si può alloggiare quando si è in corsa, ma solo quando il veicolo è fermo. Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con un binario morto. La risposta è falsa. Questo segnale non preannuncia l'incrocio con un binario morto, ma un incrocio con una strada laterale secondaria sulla nostra sinistra in cui si ha il diritto di precedenza. Il segnale raffigurato indica la possibilità di sorpassare a destra. La risposta è falsa. Il sorpasso a destra non c'entra niente. Questo segnale indica un restringimento della carreggiata sulla destra causato da un cantiere stradale. Sulla distanza di sicurezza influisce la concentrazione del conducente. La risposta è vera. Se non si è concentrati alla guida, si è meno pronti ad intervenire sui comandi e di conseguenza aumenterà lo spazio di reazione e quindi servirà anche a aumentare la distanza di sicurezza. Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, occorre spostarsi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. La risposta è vera. In questa situazione servirà sicuramente spostarsi il più possibile vicino al margine destro per agevolare il sorpasso e all'occorrenza anche rallentare per permettere al veicolo in sorpasso di ultimare più rapidamente la manovra. La spia della temperatura dell'acqua di raffreddamento è di colore rosso. La risposta è vera. L'aumento eccessivo della temperatura del liquido di raffreddamento potrebbe causare gravi danni al motore e per questo viene segnalato con una spia di colore rosso, un colore che sicuramente significa problemi. L'assunzione di alcol facilita la guida perché fa aumentare la capacità di concentrazione. La risposta è falsa. L'assunzione di alcol non ha nessun aspetto positivo quando si è alla guida e viene inoltre pesantemente sanzionato dal codice della strada e in alcuni casi anche da quello penale. In caso di frenata di emergenza con entrati in azione dell'ABS bisogna continuare a premere con forza il pedale senza allentare la pressione. La risposta è vera. L'ABS serve ad evitare che le ruote si blocchino nel caso in cui si prema troppo forte il pedale del freno. Penserà tutto l'ABS. A noi basterà tenere comunque frenato ed eventualmente sterzare per evitare gli ostacoli davanti a noi. Il segnale raffigurato fuori dei centri abitati è preceduto dal relativo segnale di preavviso. La risposta è vera. Lo stop sulle strade extraurbane e anche su quelle urbane di scorrimento va per forza preavvisato dallo specifico segnale per darci vado di iniziare a rallentare al momento opportuno e col dovuto anticipo. Il segnale raffigurato fa parte dei segnali di precedenza. La risposta è falsa. Questo non è un segnale di precedenza ma di indicazione e più precisamente un preavviso di intersezione urbana. La distanza di sicurezza può essere maggiore dello spazio percorso nel tempo di reazione. La risposta è vera. La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio di reazione ma se è superiore è sicuramente meglio. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo R passa per primo. La risposta è vera. Questo è un incrocio tra strade di uguale importanza in cui vale la regola generale della precedenza a destra. Il veicolo R è l'unico ad avere la destra libera e quindi ad attraversare per primo l'incrocio. Dopo di lui passa il veicolo giallo e per ultimo quello blu. Nei caravan per ridurre il rischio di ribaltamento in curva occorre sistemare il carico in modo il più possibile equilibrato tra il lato destro e sinistro. La risposta è vera. Non è corretto sistemare un carico tutto sul lato destro o sinistro. Così facendo si rischierebbe il ribaltamento in curva. Servirà a disporli in maniera equilibrata tra il lato destro e quello sinistro. Su una strada innevata l'aderenza del veicolo è minore che su una strada ghiacciata. La risposta è falsa. Il ghiaccio garantisce sicuramente meno aderenza rispetto alla neve. Su tutte le strade è vietato esercitarsi alla guida. La risposta è falsa. E tutto il contrario ci si può esercitare alla guida su qualunque tipo di strada sempre ovviamente che il veicolo ci possa andare. La scheda è finita e spero che anche voi come Gabriele siete riusciti ad essere promossi. Se avete fatto diversi errori vi consiglio come sempre di rifare la scheda tra qualche ora o anche domani per essere sicuri di aver ben memorizzato tutte le risposte corrette e non rischiare così di sbagliarle il giorno dell'esame. Finisce qui anche questo video. Noi ci rivediamo presto con il prossimo sempre qui sul canale guidare oggi con Andrea. Ciao! 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 Grazie a tutti.